Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Meet the Mystery SCP. Oggi parleremo dell'SCP 008 italiano, chiamato anche l'hotel, presso dell'oggetto SAFE. Foto di SCP 008 italiano. Procedure speciali di contenimento. L'accesso a SCP 008 italiano deve essere impedito da una continua sorveglianza del suo perimetro. Tutte le imposte delle entrate devono essere bloccate. Chiunque venga scoperto all'interno di SCP 008 italiano dovrà essere immediatamente rimosso, con la forza e soggetto ai test clinici. Descrizione. SCP 008 italiano è un edificio situato a 2 km a sud di Nella orientale in una zona relativamente poco popolata. La struttura versa in condizioni di abbandono e alcune zone di esso mostrano i segni di un incendio. L'interno di SCP 008 italiano appare come un ormai interno di un albergo con una hall, una reception e diverse stanze situate tutto a secondo piano. Esattamente come all'esterno, anche l'interno presenta i stessi segni di integrato. Tuttavia, dopo un periodo di tempo che va dai 2 ai minuti, un soggetto all'interno di SCP 008 italiano avrà delle allucinazioni e percepire l'ambiente intorno a sé in modo differente. Gli interni, infatti, non mostreranno segni di degrado e sarà inoltre possibile vedere delle persone, membri del personale e clienti, muoversi liberamente svolgendo normali azioni, come chiacchierare, taccinare valigie ed entrare e uscire dalle proprie stanze. Qualsiasi tentativo di detergire con queste persone non avrà nessun effetto. Dopo circa 3 minuti dell'inizio dell'allucinazione, le visioni mostreranno l'albergo vittima di violente scosse simile a un terremoto. L'agenda inizierà a scadere per terra e a fuggire del panico. Sarà a questo punto che la sequenza ricomincerà dall'esatto punto in cui era cominciata, riproducendosi in un loop. Permanere all'interno di SCP 008 italiano per più di minuti dall'inizio dell'allucinazione provocherà una serie di sintomi quali emicrania, nausea, convulsioni. Prolungare la permanenza e condurre la morte del soggetto per aneurisma cerebrale. Se il video ti è piaciuto dimmi lasciare un bel mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!